Puliamo il Mondo non si smettisce mai in questo senso, noi vorremmo poterlo interrompere come iniziativa, come attività, sarebbe un bel segnale, vorrebbe dire che non c'è più bisogno di questa azione di volontariato ambientale, ma magari dare più spazio ad altri. Speriamo di arrivare anche a questo risultato. Lega Ambiente arriva sulle sponde dell'Arno, all'ombra del Ponte della Gioconda. È Ponte Buriano il luogo scelto per la trentesima edizione di Puliamo il Mondo. Il tema dell'ambiente e della sostenibilità è oramai al centro dell'agenda politica. Noi come Lega Ambiente ci vogliamo stare, vogliamo ancora continuare a proporre azioni, proposte credibili, verosimili e voglio dire anche mobilitare i cittadini che ne hanno tanto bisogno, perché questo è un tema che ci accompagnerà per la transizione ecologica nei prossimi anni. Una domenica che ha visto una maxi operazione di pulizia a cui hanno partecipato il Comune, Sei Toscana e tante associazioni di volontariato e il Consorzio Bonifica Alto Val D'Arno. Una campagna importantissima perché quando quotidianamente i nostri operai, i nostri tecnici vanno lungo i corsi d'acqua, ancora oggi troppo spesso troviamo rifiuti abbandonati. E di ogni genere, pensate che qualche anno fa, proprio qui nei pressi di Ponte Buriano, i nostri operai sono dovuti scendere in acqua con un barchino per recuperare una lavatrice. Quindi spesso anche rifiuti ingombranti che possono non soltanto procurare un degenero ambientale, ma anche un pericolo dal punto di vista idraulico. Tutti insieme per formare un esercito pacifico di eco spazzini, armato solo di sacchetti e guanti, a piedi o in sella a una bicicletta. Nella raccolta stiamo trovando di tutto, purtroppo questo è una costante delle nostre attività di Puliamo il Mondo, soprattutto vicino ai fiumi. Non perché siano luoghi di abbandono privilegiati, ma perché purtroppo l'acqua spesso trascina con sé quello che lasciamo e depositiamo anche a Monte. Un gruppo di noi si sta incamminando con le bici invece lungo la pista ciclabile, sta facendo una ripulitura diversa del percorso ciclopedonale che parte appunto dalla Chiana e arriva fino a qui. Tra le braccia al lavoro anche tre detenuti in regime di semilibertà. Ringraziamo questa associazione che ci ha permesso di vivere questa esperienza, sperando di fare qualcosa di positivo per il futuro, per i giovani. Nello stesso tempo ringraziamo tutti coloro che hanno permesso che noi detenuti partecipassimo a questa manifestazione. Se ci mettiamo la volontà e l'impegno noi tutti, anche voi che ci ascoltate, secondo me ce la faremo, però ci vuole molta serietà e molto senso di responsabilità perché la natura fa parte della nostra vita.